In qualche maniera percepiamo e che abbiamo potuto in qualche maniera appurare da ciò che è stato reso pubblico alla cittadinanza e quindi anche a noi, questo gruppo di esperti è stato costituito il 3 novembre, il 7, le schede sono state inviate al Ministero. Io non so ovviamente come stanno esattamente le cose, però quello che si percepisce è che in qualche maniera questo lavoro sia figlio anche un po' della fretta e lo dico anche per un'altra ragione. Perché, caro Presidente, io Presidente Bardi sono d'accordo assolutamente sul ragionamento di cui leggevo questa mattina sui giornali rispetto al fatto di richiedere sicuramente una fetta maggiore per il meridione, nel nostro caso per la nostra regione, perché quel 34% non è altro che la ripartizione in base alla demografia e quindi in base a un mero calcolo ragionieristico di quelli che sono gli abitanti. E' evidente che non debba essere così, è evidente che quello che ha detto il Presidente rispetto all'ammontare delle risorse che quindi sono state in qualche maniera messe sul piatto per l'Italia, debba tener conto esattamente di quello di cui ha tenuto conto l'Europa per poter definire determinate cifre. Quindi anche del grado di sofferenza del nostro Paese che è ovvio è stato mediato e che lo sappiamo, lo sanno tutti, è qualcosa di atavico, è sicuramente una caratteristica che riguarda prevalentemente le regioni più deboli, la zona più debole del Paese che è il meridione d'Italia. Quindi su quello siamo perfettamente d'accordo. Però Presidente, io la invito a riflettere su tutta la nazione. Quindi diciamo, io quello che invito a fare e che come gruppo consigliare offro anche come spunto per poter in qualche maniera dire la nostra, senza andare troppo nello specifico in questo momento, è esattamente renderci conto della sproporzione rispetto a quelli che sono i progetti che sono stati presenti, l'ammontare dei progetti che abbiamo presentato che supera i 13 miliardi di euro, è quello che nella più ottimistica delle ipotesi ci spetterebbe, che è di 4 miliardi circa di euro. Quindi parliamo di qualcosa che è tre volte e mezzo tanto che noi abbiamo messo sul piano. Per carità, se la domanda è questa, nel momento in cui viene stabilita una cifra X dal governo, o dalla Commissione Europea che dice al governo, questi sono i fondi, il governo dice alla Basilicata spetta X. Nel momento in cui noi sapremo X e X fosse malauguratamente, mettiamola così, inferiore ai 13 miliardi che noi abbiamo richiesto, siamo in grado di dire di questo X la percentuale di progetti che noi vogliamo fare è questa ed è esattamente già ben inquadrabile e dire questi si fanno e questi per il momento li accantoniamo, lo possiamo fare. Quindi questo è già un passo interessante. Io non voglio fare polemica, sto semplicemente chiedendo se c'è questa possibilità, ci siamo già mossi in questa direzione. Se è così, per carità, va benissimo. Così come dobbiamo anche capire come andare a rimodulare tutte le voci che abbiamo messo sul piatto. Parlavamo prima dei 600 milioni di euro destinati alla transizione verde nell'industria. Quei 600 che facciamo? Li riduciamo tutti in proporzione? Oppure diciamo che per quanto riguarda la transizione energetica delle industrie vogliamo puntarci di più e andiamo a sottrarre risorse in proporzione a quella che è la riduzione di ciò che ci aspettiamo su un altro asse? Ecco, io credo che queste siano domande legittime e tutt'altro che secondarie. così come ad esempio per quanto riguarda la sanità io leggo di investimenti in immobili di fatto, in infrastrutture, in strumentazione e mi chiedo e chiedo all'assessore Leone, al presidente, contemporaneamente rispetto a questo investimento che si è previsto o a quello che sarà, abbiamo anche previsto un investimento sulle risorse umane per poter poi utilizzare quelle apparecchiature e quelle infrastrutture in maniera tale da poter dare un servizio adeguato ai lucani. Sono tutte riflessioni che non sono domande retoriche alle quali io rispondo. No, non c'è. Io non voglio fare questo tipo di ragionamento perché non serve a nessuno, a maggior ragione può servire a noi in questo momento, in questa situazione. Noi abbiamo lo stesso interesse che ha la Giunta a finalizzare un lavoro che sia utile ai lucani e che in qualche maniera argini il più possibile quelle che sono le sofferenze di tutta la popolazione a livello non solo economico ma anche sociale, anche dal punto di vista della salute, soprattutto mentale, perché con la pandemia abbiamo visto che questo può provocare in soggetti che sono fragili e che non riescono a sopportare lo stress da infodemia, quella che viene chiamata infodemia dove abbiamo un bombardamento tutti i giorni con ansie che vengono alimentate. Quindi cerchiamo di collaborare tutti qua. Noi siamo, per quanto ci riguarda, e stiamo vedendo che lo stesso vale per tutti, poi ci possono essere toni un po' più polemici, ci possono essere anche delle affermazioni fuori luogo, ci possono essere degli errori, come io penso di poter avere anche sbagliato nel fare determinati calcoli, però mi sono attenuto a quelli che sono i numeri, mi piace ragionare con i fatti, se non sarà così, ben venga, ripeto, io non ho nessun tipo di problema a dire che ho sbagliato, tutti possiamo sbagliare, sicuramente io ho sbagliato tante volte, posso aver sbagliato e potrò sbagliare in futuro. Quello che ci deve essere è la buona fede da parte di tutti, la voglia di collaborare e capire se si possono ancora dare dei contributi e integrare quelle parti che oggettivamente possono essere viste come delle lacune. Mi rendo conto che non è semplice mettere insieme una visione tale da poter accontentare tutti rispetto a quelli che saranno gli investimenti di questo recovery fund, che comunque sia, e chiudo facendo questa riflessione, non sono soldi così regalati che non costano nulla, ma che al nostro paese sicuramente costeranno perché ci dobbiamo finanziare in gran parte sul mercato e in parte si parla di sovvenzioni, ma è una parte minoritaria quella delle sovvenzioni, se non sbaglio circa 80 miliardi di euro, c'è chi dice 60 e rotti, chi 80, però diciamo siamo sicuramente a una cifra ben inferiore rispetto al totale che sono 209 miliardi. Questo mi sentivo di dire come contributo sia personale e sia condiviso con il nostro gruppo, bisogna fare attenzione molto alla ricerca perché i progetti di ricerca non vedono coinvolti in nessun modo mi è parso di capire l'università, però se dobbiamo decidere che l'università ci serve come regione, come comunità, in qualche maniera sarebbe forse utile anche andarle a coinvolgere e creare quello che è l'humus per poter consentire, non dico di far rientrare le persone che sono andate via dalla regione, che diventa molto complicato, ma quantomeno far rimanere quelle che ancora ci sono e dare la possibilità a chi cresce e non vede un futuro per sé, di poter immaginare un'opportunità nella regione in cui è nato e in cui vuole vivere anziché andare via, essere costretto ad andare via, perché andare via molte volte è utile perché arricchisce, ma deve essere appunto una scelta, non un obbligo per i nostri giovani andare a fare esperienza fuori e magari ritornare, riportare il proprio know-how nella nostra regione per dare un contributo alla crescita della nostra stessa regione. Questo mi sentivo di dire, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi scuso se una parte del mio intervento può essere stata vista con un tratto polemico, ma non era mia intenzione, non è mia intenzione fare polemica, è semplicemente mettere al centro della discussione una serie di considerazioni che sarò, ripeto, felice che vengano smentite, soprattutto riguardo a quello che è l'ammontare di tutte le schede che sono state presentate. Grazie.